Ciao a tutti ragazzi del canale Spazio Games, sono Dr. Miyax e oggi siamo tornati con un nuovo episodio dedicato all'analisi armi per Call of Duty in particolare oggi trattiamo un fucile d'assalto molto diciamo usato ma non così tanto diciamo che è un buon fucile d'assalto per quanto riguarda quest'arma sto parlando dell'S-805 allora l'S-805 lo vedete nella solita classe ormai famosa che conoscete e che vi porto con i fucili d'assalto cioè con il calcio, il silenziatore eventualmente alternabile al freno di bocca con i soliti pair che conosciamo quindi predatore, gioco di prestigio, prontezza, silenzio di tomba, concentrazione e se ricompense ovviamente a scelta vostra ormai questa recensione sta diventando un pochino molto simile a una colata perché comunque le armi io le trovo veramente molto comode con gli accessori che vedete nella classe che vi ho mostrato precedentemente quindi mi è difficile cambiare perché quando uno cerca di provare accessori nuovi diciamo che magari si trovi in maniera scomoda quindi quando trovi secondo me la combinazione corretta e perfetta che ti fa trovare molto bene con quest'arma è difficile che cambi però qualche accessorio nuovo si può sempre inserire nella propria classe dopo vedremo eventuali alternativi agli accessori che vi ho citato all'inizio comunque non perdiamoci troppo andiamo subito ad analizzare l'S-805 che è un'arma decisamente ottima però non ottima come può essere un Remington o come può essere un AK-12 perché è un'arma buona ma non ottima allora innanzitutto il fatto di utilizzare l'arma senza silenziatore vi porta a uccidere i nemici con 4 colpi al corpo e 2 colpi alla testa utilizzando in questo caso alcun tipo di accessorio se invece vogliamo utilizzare ad esempio il silenziatore allora c'è un cambiamento netto ma in maniera negativa perché avremo in questo caso 5 colpi al corpo ma sempre 2 la testa quindi l'arma perde un pochino di efficacia specialmente da distanze medio-lunghe utilizzando il silenziatore quindi le distanze lunghe e il silenziatore non sono di certo una coppiata che vi permetterà di vincere facilmente gli scontri a fuoco con i nemici se invece cosa che vi consiglio di più per ovviare questo problema del danno però comunque anche a rischiare di mettervi in posizione vista dai nemici quindi rischiare di essere scoperti allora utilizzate il freno di bocca perché aumenta come si sa il danno da lontano soprattutto quindi il danno sulla lunga gittata aumenta e in questo caso risulterà essere di 3 colpi al corpo e 2 colpi alla testa sempre ma secondo me non vi deve creare il problema il fatto di utilizzare un accessorio come il freno di bocca perché non importa anche se vi fate vedere dai nemici non è un problema così fondamentale l'importante è riuscire a uccidere velocemente quindi secondo me è meglio utilizzare il freno di bocca che il silenziatore quindi se magari vi trovate ad esempio col silenziatore in uno scontrofuoco con un nemico di solito chi ha, a parte anche la connessione migliore però comunque chi ha l'arma senza silenziatore che sia su una mitraglietta, intanto qua tutte le armi sono potentissime vince generalmente uno sconto quindi molte volte mi è capitato di perdere scontrofuoco anche ravvicinati con un SA-805 col silenziatore a dispetto di un avversario che aveva un'arma senza silenziatore quindi vi consiglierei il freno di bocca poi che cosa dire sul caricatore 30 colpi, buono, standard come ogni fucile d'assalto chi vuole potrebbe inserirsi al posto del silenziatore o del freno di bocca avendo comunque l'arma un danno abbastanza discreto diciamo già di per sé dei caricatori aumentati che potrebbero risultare comodi in alcune situazioni anche se comunque secondo me 30 colpi sono già ottimi così com'è l'arma quindi con 30 colpi l'arma è già molto buona visto che comunque non uccide in tantissimi colpi quindi ne bastano veramente pochi bene, poi cosa diciamo sul tempo di ricarica? che l'arma senza gioco di prestigio ha un tempo di ricarica di circa 2 secondi ma se noi andremo a utilizzare il gioco di prestigio il tempo di ricarica si abbasserà a un secondo quindi comunque vi dà una buona sicurezza in scontri con un nemico o anche più nemici magari se siete più nemici di fronte utilizzare il gioco di prestigio vi faciliterà molto le cose quindi nel complesso cosa dire? l'arma secondo me è molto buona ovviamente il predatore sapete che si usa per mirare più velocemente potreste anche non inserirlo ad esempio e potreste inserire qualche altro perk che voi preferite ad esempio magari un mira stabile anche se comunque su un fucile d'assalto non è molto conveniente usarlo lo consiglierei più che altro su una mitraglietta oppure altri perk per esempio non so, estrazione rapida che dipende di mirare più velocemente quindi deve essere un pochino una scelta vostra una scelta che sentite voi come vostra perché io comunque mi trovo bene con questa classe e ognuno poi può personalizzarsela come preferisce quindi nel complesso questo è tutto questa è la mia classe in sintesi per l'S805 spero che vi sia piaciuto il video spero che anche voi utilizzate questa ma comunque ha buone stat certo non quello di un Remington o di una K12 però comunque se la cavicchia abbastanza bene vi invito a passare anche dal mio canale personale che trovate in descrizione ringrazio come sempre gli iscritti al mio canale e fatemi sapere con un commento la prossima arma pensavo più che altro di riorientarmi verso un fucile DMR quindi tornare ad analizzare un fucile DMR quindi qui Dr. Mirax e un ringraziamento per aver visto questo video ciao a tutti